Ultimo atto del progetto Erasmus che ha coinvolto alcuni studenti del Severi insieme ai pari età di 5 scuole di altrettante nazioni europee. In questi giorni conclusioni con i ragazzi ospitati proprio in Val D'Arno e una metodologia di apprendimento decisamente innovativa per tutti. Un'esperienza molto importante, una soddisfazione per tutto l'Isis Val D'Arno poiché sono stati due anni molto intensi, mentre dall'altra parte chiaramente c'è anche un pizzico di malinconia per il fatto che questo progetto ormai è alle fasi conclusive. Abbiamo l'onore di ospitare per la seconda volta a San Giovanni Val D'Arno le delegazioni dei paesi della Turchia, dell'Ungheria, della Repubblica Ceca e della Spagna e quindi sarà per i nostri ragazzi un'ennesima occasione per incrementare le proprie competenze nell'ambito delle scienze. Responsabile del progetto il professor Mustafa Akinci. Siamo qui per l'ultimo incontro del progetto, lo scambio degli studenti e delle loro competenze e metodologie di apprendimento diverse per ogni singola nazione. Lo scopo principale del resto proprio del progetto è quello di aumentare il livello di nozioni che ogni alunno può imparare sotto l'ambito prettamente scientifico e nella scienza lo scambio di informazioni tra i vari studenti è alla base delle scoperte.